Chi non conosce l'amore felice, dica pure che in nessun luogo esiste l'amore felice. Con tale fede, gli sarà più lieve vivere e morire. Wislava Shimboska L'amore nei versi delle poesie, l'amore nei libri, ma talvolta c'è anche l'amore che nasce in mezzo ai libri. L'amore nei versi delle poesie Eccoci qua, un ritorno al passato, ovviamente un ritorno piacevole perché torno nel luogo in cui ho incontrato l'amore della mia vita, la persona che mi affianca ogni giorno, ogni attimo, che mi ha dato due splendidi bambini. E quindi sicuramente questo è un posto magico, è un luogo sicuramente di cultura, ma anche un luogo di incontro, un luogo dove ci può essere anche quella scintilla d'amore che può dare origini a delle storie importanti, come è la mia con Cristina. Io lo conquistavo con la mia cultura artistica, dicevo guarda ma conosci me? Io con le formule matematici e la ragioneria. E quindi c'è stato uno scambio di cultura, di conoscenza e poi piano piano avrei iniziato con l'amicizia e poi ogni giorno era appuntamento fisso in bibliotipa, non passava il giorno che non ci incontravamo. Però prima lo studio, perché sennò veramente non usciamo più. Prima si studiava e poi insomma c'era il caffè fuori. E' l'occasione del momento in che era una pausa. E' l'occasione del momento in che era una pausa. Passi a passare alla città. Chi non conosce l'amore felice a quanto pare ha un motivo in più per frequentare le biblioteche dove a volte, come abbiamo visto con la storia di Rino e di Cristina, si può persino incontrare l'amore della vita ma sempre, sempre ci saranno millemila storie d'amore da leggere, da guardare e da ascoltare